benvenuti in questo nuovo video tutorial nel quale ci occuperemo di come correggere dei compiti che i nostri ragazzi ci hanno consegnato in classroom quindi questo sarà l'argomento specifico nei video precedenti infatti abbiamo visto nell'ordine come inserire materiali tramite la funzione aggiungi nello stream di classroom e poi abbiamo visto anche come creare dei compiti il passaggio naturale ora vedere come correggere e restituire questi compiti in classroom perché è piuttosto importante questo perché tramite questo sistema noi evitiamo il ping pong di prove inviateci via mail e restituite via mail classroom permette tutto questo oltretutto ribadisco ancora che classroom riesce anche a organizzare in maniera totalmente automatica tutti i nostri compiti suddividendoli per classe per cartella e per argomento il che è molto utile soprattutto quando poi si vanno ad archiviare le classi tipicamente questo accade alla fine dell'anno ed è molto molto semplice andare a recuperare eventuali prove cosa che non sarebbe altrettanto facile se dovessimo ricercarle dentro il mare magno della nostra posta elettronica fosse anche la posta di liceosansepolcro.eu allora ribadisco molto rapidamente che l'app classroom è disponibile in formato mobile che per entrarci bisogna fare il login con il nostro account liceosansepolcro.eu e per richiamarla occorre andare su questi 9 quadratini oppure cliccare su classroom.google.com fatto questo ci ritroviamo nel nostro pannello di controllo ora invece vedremo in maniera diretta come si restituiscono delle prove eccoci qua la prima cosa da fare ovviamente è entrare nella nostra classe vale a dire nella classe della quale vogliamo correggere alcune prove normalmente quando si entra in classroom entriamo nello stream vale a dire nel flusso di tutto il nostro diario di bordo ovviamente noi stavolta dobbiamo andare su lavori del corso ecco qui su lavori del corso noi vediamo tutte le prove che nel tempo avremo consegnate ai nostri ragazzi nella classe di prova che ho predisposto con i miei colleghi che si sono prestati molto generosamente a questo tipo di video vedremo dei compiti su agenda 2030 che per inciso di cui vi consiglio di consultare il sito www.asvis.it asvis è un'agenzia italiana che si occupa dello sviluppo sostenibile e questo sito raccoglie tantissimi materiali tutti affidabili scientificamente approvati per quanto riguarda il lavoro su agenda 2030 e i suoi 17 goal allora quindi quando andiamo su lavori del corso vediamo i nostri compiti assegnati in questo caso io sto vedendo che ho una classe da 15 persone sono dei miei colleghi però ipoteticamente se fossero studenti potrei subito capire il loro numero perché vedo che 5 sono stati consegnati e 10 sono stati assegnati ma non ancora consegnati ecco se io adesso voglio andare a correggere i compiti che ho ricevuto clicco sui 5 consegnati ho chiesto agli altri colleghi di non consegnarli ancora in tal modo potremo vedere tutte le fattispecie possibili vado sui 5 consegnati clicco eccoli qui vedo anche i nomi dei miei colleghi ora per correggerli ed eventualmente commentarli e perché no valutarli io devo cliccare il singolo compito e vedere cosa mi ha scritto il ragazzo clicco sul compito di candida eccolo qua dopo qualche istante in base alla velocità della mia rete ecco io vedo il compito se vi ricordate questo è esattamente il compito che io avevo assegnato alla mia classe queste erano le domande ed ecco qui la risposta di candida ora non entriamo naturalmente nel merito della risposta perché tutto questo è semplicemente una simulazione un video tutorial però io vedo che qui la risposta è esatta la mia domanda era quali sono i numeri della dispersione scolastica 18,5 rispetto al 14 dell'italia se voglio commentare questa risposta magari facendo un complimento al mio studente o alla mia studentessa posso sottolineare la sua risposta e commentarla attraverso questa iconcina che può assomigliare all'icona degli sms io clicco e scrivo brava commenta da questo momento lo studente vedrà anche questo commento e via discorrendo vedo che qui la risposta è tutta esatta e quindi se voglio alla fine posso tranquillamente scrivere un mio giudizio vado nella parte finale mi riservo una piccola parte giudizio del docente il compito è ottimamente realizzato punto esclamativo magari usiamo un altro colore così si vede subito a colpo d'occhio suggerisco di non usare il rosso ecco qua grassetto ecco giudizio del docente brava il compito è ottimamente realizzato a questo punto io posso anche dare una valutazione perché nella mia prova quando l'avevo assegnata io avevo lasciato aperto il campo valutazione vale a dire avevo lasciato aperta la possibilità di valutarla se questa possibilità non voglio lasciarla aperta io nell'atto della progettazione devo cliccare senza voto questa volta invece il compito secondo me è perfetto e quindi do un bel 10 ho scelto il voto in centesimi perché questo consente un 8 e mezzo un 7 e mezzo un 9 e mezzo e via discorrendo a quel punto vedete che qui c'è scritto che il compito non è stato ancora restituito quindi lo studente non ancora non lo sa io vado su restituisci ecco qui mi arriva una conferma e dice lo studente riceverà una notifica e potrà consultare il voto candida 100 restituisci da questo momento quell'utente e solo quell'utente ha ricevuto questo compito nel quale vede tutte le mie notazioni il commento qui e anche il giudizio finale qui passiamo ora a un altro compito per esempio chiara il compito di francesca eccolo qui io clicco sul compito di francesca mi si apre la sua prova ecco qui anche questo compito vedo che è perfettamente realizzato le sue risposte sono esattamente sotto le mie domande eccola qui una sua risposta un'altra molto articolata e via discorrendo eccole qui compito fatto altrettanto bene rispetto all'altro quindi io sono molto contento dunque posso esprimere sempre il giudizio nella parte finale ora per rapidità non sto a rifarlo esprimo di nuovo una valutazione che è esattamente questa se voglio posso esprimere un commento privato anche qui ma io normalmente lo esprimo direttamente alla fine della prova perché nel commento privato per esperienza vi dico che sfugge ai ragazzi perché devono andarla a cercare mentre invece il commento alla fine del compito è più visibile specie se usiamo un colore diverso a questo punto 100 centesimi cioè 10 restituisci lo studente riceverà una notifica restituisci il compito è stato restituito bene vediamo adesso un'altra prova scelgo quella di Chiara ecco qui ora io ho chiesto ad alcuni colleghi di non elaborarlo il compito perché spesso i ragazzi lo consegnano credendo di averlo compilato e questo non succede perché le prime volte si confondono quindi guardate qui cosa è successo questo studente, questa studentessa ha consegnato il compito però non è scritto nulla dunque in questo caso noi possiamo dire tramite un giudizio nella parte finale alla studentessa o allo studente ti sei dimenticato di compilarlo e a questo punto lo restituiamo eccolo qui lo restituiamo nessun voto perché il compito non è stato realizzato e quindi andiamo su restituisci lo studente leggerà la nostra nota e tornerà sul suo compito a svilupparlo meglio o a svilupparlo dall'inizio di nuovo vediamo per esempio questo di Alessandro che mi sembra sia la fattispecie precedente ecco qui di nuovo un compito che lo studente pensava di aver realizzato e non lo ha realizzato e quindi noi facciamo la stessa cosa non mettiamo la valutazione andiamo su restituisci nessun voto restituisci e così via resta quello dell'ultimo dei nostri studenti ecco qui la studentessa ha inserito anche un commento questo è molto comodo a volte i ragazzi vogliono inserire un commento quello di aver incontrato una specifica difficoltà oppure di aver fatto determinate scelte piuttosto che altre e qui io ho chiesto alla collega di inserire questo commento in modo tale da poterlo vedere è molto utile questo anche in questo caso vediamo che non c'è l'elaborazione del compito perché le prime volte ai ragazzi questo succede non ci dobbiamo spaventare nella stragrande maggioranza dei casi è solo una dimenticanza a quel punto noi scriviamo un giudizio nel quale evidenziamo la necessità di tornare sulla prova ed elaborarla e a quel punto clicchiamo su restituisci e senza voto naturalmente e a quel punto è andata la restituzione ora se io torno nel pannello di controllo ecco qui ho il report totale di tutti i compiti eccoli qua 12 sono stati assegnati 2 hanno la valutazione altri non hanno la valutazione può succedere anche che i ragazzi nel timore di non saper editare il documento da noi predisposto questo per esempio allegano un loro documento magari lo fanno su Word e al posto che editare il nostro fanno un allegato a quel punto comparirebbe qui sotto qui non lo vedete naturalmente perché ora non c'è però comparirebbe un PDF un file Word o un'immagine a seconda della consegna in questo caso l'importante secondo me è che i ragazzi facciano una prova però con il tempo è bene dire che devono editare la prova che abbiamo dato noi perché? perché se loro allegano un PDF noi su quel PDF non possiamo intervenire mentre invece qui sì qui abbiamo massima libertà di intervento quindi il mio consiglio è che gli allegati servono se devono i ragazzi per esempio aggiungere degli audio degli audio commenti insomma una lettura espressiva una lettura poetica allora è inevitabile però per quanto riguarda gli aspetti testuali il mio consiglio è quello di farli lavorare sul nostro documento e non su un loro documento ecco qui questo è il report finale 13 sono stati assegnati 2 hanno la valutazione nessuno è al momento in sospeso quando vedete che alcuni hanno scritto assegnato vuol dire che quei colleghi quegli studenti al momento ancora non hanno effettuato la prova e quindi noi non possiamo non possiamo correggerla ecco questo è l'essenziale per quanto riguarda la correzione delle prove per qualunque altro dubbio la mia mail è sempre la solita onori.emiliano chioccio aliceosansepolcro.eu e colgo anche l'occasione per dirvi che se volete sperimentare classroom lato studente potete iscrivervi a questa classe naturalmente questo è aperto solo ai colleghi del dominio liceosansepolcro.eu e non anche ad altri e il codice per entrare in questa classe è questo vale a dire 7wptooj grazie e ci vediamo al prossimo video